A Chiovato, il rione Terra Sibilla, ospite il Montecalcio. Si firma un successo in trasferta per i giovani di Gennaro Illiano, con tre gol a Bacoli la squadra bianco-azzurra batte il rione Terra di Gennaro Monaco. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa si scatenano gli ospiti che vanno in rete con Serrano, Cirelli e Calannante. L'ultimo confronto fra le due squadre a Bacoli risale a due stagioni fa nel campionato di promozione, finì 2-2 e rimonta della compagine montese a fine partita. Ultimi minuti che sono stati determinanti, positivo per il Montecalcio anche stavolta, che costruendo occasioni riesce a portare a casa tre reti. Il Real Forio, invece, supra l'ostacolo quarto Africa dallo Stadio Calise. Soghiuzzo sblocca la mezz'ora con una punizione magistrale. Filosa raddoppia il tramonto della frazione iniziale con un sinistro dell'interno dell'aria. In avvio di ripresa, i fregrei accorciano Corragosta. A quasi fine partita di Costanzo finalizza su calcio piazzato di pistola. Il colpo di testa vale 3-1. Grazie a tutti.